Ecco qua, andiamo a recuperarli, eccole qua, due belle marmore, ah che bel campato, due belle marmore mattutine, anche per le labbra rosa, sembra che abbia messo il rossetto, va bene, rimettiamole giù, ok, alla prossima, intanto ci godiamo questo meraviglioso mare e questo meraviglioso paesaggio, ciao a tutti e buona giornata!